Ciao ragazzi ben ritornati nel mio canale ooooggi siamo qui ritornati finalmente a riportare un gioco horror decente o cioè dead by daylight gli scorsi video vi sono piaciuti su questo gioco e di questo ne sono veramente veramente contento e stranamente e 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 te n'am intento e... Ah, amai s'neumas che vedi? Grape? Ah? E sei schifo, lo quale visto? Hai? Oro valren del mio, bravo a ricorescelo a no mia gemelle a sta qua... Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Oh mio dio... Si soffoca con questo coso...